Nel 1933 fu il primo a definire con grande genialità che in fisica quantistica sarebbe possibile stabilire delle relazioni di connessione nel gergo dei fisici entanglement tra oggetti a grande distanza tra di loro. Se io prendo un fotone e lo scendo in due fotoni si è visto che un'informazione data ad uno si traduceva istantaneamente all'altro e viceversa. I due elettroni anche qualora venissero separati rimangono in comunicazione sebbene li separi un enorme spazio. Questo esperimento è stato fatto quando è stato portato un elettrone a Roma e un elettrone a Ginevra. Quando l'elettrone su a Ginevra si girava di spin anche quello a Roma faceva la stessa cosa. 732 chilometri di distanza istantaneamente si girava lo spin. Questo voleva dire che l'informazione era istantanea e che quindi non c'era più bisogno di percorrere una distanza tra l'una e l'altra per trasferire l'informazione da l'una all'altra. Non esisteva più lo spazio, non esisteva più il tempo. Se si capisce che gli elettroni sono immersi in questo mare che la fisica non ha ancora compreso, si capisce anche che le distanze sono solo una nostra impressione soggettiva. Quindi due elettroni anche stessero a un milione di anni luce di distanza tra loro, sarebbero sempre in comunicazione. Questo è l'entanglement, l'intreccio. Quando uno ha compreso che dietro all'entanglement non c'è che una spiegazione semplicissima, capisce la vita, capisce la morte, capisce la spiritualità, capisce la materialità. In una parola capisce. Grazie a tutti.